Voglio parlarvi della mia amica Debbie. Lo scorso ottobre, scusate, mi emoziono quando parlo di lei, ha avuto un tumore al cervello, sul tronco e cefalico e insomma le è successo di tutto da quel periodo in avanti. Quando l'hanno riportata a Las Vegas a casa sua, le dicevano che assomigliava a sua madre, che ha 30 anni più di lei. Quindi molto trauma nel suo viso. Ad aprile ha iniziato l'acopuntura, l'acopuntura per il viso, aprile del 2023. A luglio del 2023 ha iniziato con i cerotti, ecco la sua storia. Fa l'acopuntura, ogni volta che si fa fare il trattamento, una volta a settimana, questa signora le dice ma com'è possibile che lei non abbia nessuna ruga con 69 anni d'età? Ogni volta che la vedo ha meno rughe. Cos'altro mi ero scritta? Quindi lei è molto contenta. Anche la sua vista è migliorata molto, perché il lato destro del corpo ha sofferto molto trauma dopo l'operazione. È molto contenta del suo progresso. Debbie usa carnosine, glutatione, giorni alterni, ogni giorno X39, X49 e Aino. Aveva anche una spalla immobile. Iniziato a usare Ice Wave per la spalla. Funziona bene perché dormiva molto male. Adesso riesce a muovere molto bene la spalla, anche grazie all'acopuntura. Continua a migliorare. Quindi appena più di un anno che usa i cerotti è fantastico. Quindi è iniziato a luglio di quest'anno o l'anno scorso? Questo luglio, 2023. Luglio, agosto, settembre, ottobre. Quattro mesi. E ha avuto questo genere di risultati in quattro mesi. Mamma mia, impressionante. Il suo viso e le rughe. Sì, la sua pelle è impressionante. La sua pelle è così morbida, la sua pelle. Sì, la sua pelle è stata.